Requisitoria della Procura Antimafia di Palermo al Maxi Processo Cupola 2.0. I pubblici ministeri propongono 56 condanne a carico dei giudicati in abbreviato. I dettagli. Lo scorso 1 ottobre la Procura della Repubblica di Palermo ha invocato il processo a carico di 64 imputati nell'ambito della Maxi Inchiesta Antimafia, sostenuta dalle indagini dei Carabinieri e della squadra mobile, cosiddetta Cupola 2.0, così battezzata in riferimento al tentativo di ricostituzione della Cupola di Cossa Nostra dopo la morte di Bernardo Provenzano e di Salvatore Riina. A capo della nuova Cupola vi sarebbe stato settimo mineo storico gioielliere della famiglia Pagliarelli. Sono stati il procuratore aggiunto Salvatore De Luca e i sostituti Bruno Bruccoli, Francesca Mazzocco e Dario Scaletta a firmare le 64 richieste di rinvio a giudizio. Ebbene, adesso, innanzi al giudice per le udienze preliminari, Rosario Di Gioia, gli stessi magistrati inquirrenti, a conclusione della requisitoria, hanno proposto le condanne a carico di 56 imputati che hanno scelto di essere giudicati in abbreviato. Eccole! Giacomo Alaimo, 7 anni, Stefano Albanese, 12 anni, Filippo Annatelli, 18 anni, Gioacchino Badagliacca, 14 anni, Filippo Salvatore Bisconti, 5 anni e 2 mesi, Giuseppe Bonanno, 11 anni e 4 mesi, Carmelo Cacocciola, 15 anni, Giovanni Cancemi, 14 anni, Francesco Caponetto, 20 anni, Francesco Colletti, 5 anni e 2 mesi, Giovanna Comito, 2 anni, Giuseppe Costa, 14 anni, Maurizio Crinò, 13 anni e 4 mesi, Filippo Cusimano, 14 anni, Rubens D'Agostino, 20 anni, Gregorio Di Giovanni, 20 anni, Filippo Di Pisa, 13 anni e 4 mesi, Andrea Ferrante, 10 anni, Salvatore Ferrante, 4 anni, Calogero Lopiccolo, 20 anni, Vincenzo Ganci, 12 anni, Giusto Giordano, 4 anni e 6 mesi, Michele Grasso, 12 anni, Leandro Greco, 16 anni, Marco Larrosa, 10 anni, Gaetano Leto, 18 anni, Erasmolo Bello, 20 anni, Sergio Macaluso, 2 anni, Michele Madonia, 13 anni e 4 mesi, Umberto Magliorana, 2 anni e 8 mesi, Domenico Mammi, 2 anni, Giusto Francesco Mangiapane, 13 anni, Matteo Maniscalco, 10 anni, Antonio Giovanni Maranto, 8 anni e 4 mesi, Luigi Marino, 15 anni, Fabio Messicati Vitale, 14 anni, Giovanni Salvatore Migliore, 14 anni, Settimo Mineo, 20 anni, Andrea Mirino, 4 anni, Salvatore Mirino, 16 anni, Massimo Moulet, 14 anni, Domenico Nocilla, 14 anni, Nicolo Orlando, 10 anni e 8 mesi, Salvatore Pispicia, 18 anni, Gaspare Rizzuto, 20 anni, Michele Rubino, 14 anni, Giovanni Salerno, 20 anni, Pietro Scafidi, 10 anni e 8 mesi, Salvatore Sciarabba, 20 anni, Giuseppe Serrio, 20 anni, Giovanni Sirchia, 13 anni e 4 mesi, Salvatore Sorrentino, 18 anni, Giusto Succato, 11 anni, Vincenzo Succato, 16 anni e 8 mesi, Rosolino Mirabella, 13 anni e 4 mesi, Salvatore Troia, 14 anni.